Amici sportivi e nonna di Mediacentro TV, Antonio Tescione vi saluta dal Gino Salveti di Cassino in occasione dell'incontro di calcio Cassino Vis Artena, gara inserita nel tabellino della 24esima giornata del campionato di serie di Girone G. Spero di non farvi mancare la cronica e i commenti dell'amico Gianni Ranaldi, assente e giustificato. L'occasione è buona per vedere dall'alto questo Cassino che dopo più di un mese di forfait causa Covid è rientrato domenica scorsa a Muravera riscuotendo un lusinghiero pareggio per 0-0 con portiere Marco Del Giudice sugli scudi, ha parato un calcio di rigore allo scadere del primo tempo consentendo così